Salve a tutti ragazzi, in questo video della fascia melenza dico di mangiare roba salata se possibile e i dolci forse vanno evitati, questo è salato, è una focazia salata molto buona un po' di sottotitoli e come è un po' di sottotitoli, come è un po' di sottotitoli, è un po' di sottotitoli non mi sento la ruova ma va Grazie. 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 Grazie.